più critico, la società credo che abbia gestito ancora una volta nel migliore dei modi questo momento. Avere quattro sconfitte consecutive credo che non era assolutamente facile, credo che qualsiasi altra società avrebbe avuto delle difficoltà. Noi invece abbiamo mantenuto la solita calma, abbiamo dato fiducia ai ragazzi, allo staff tecnico, abbiamo chiesto a tutti di avere pazienza e credo che alla fine ancora una volta questa scelta ci ha premiato perché credo che siamo venuti fuori ormai da questo periodo, è chiaro che bisogna continuare perché dobbiamo dare continuità ai risultati, però io credo che la squadra con questa vittoria possa sicuramente affrontare il percorso futuro più serenamente. Presidente, in effetti non avete avuto le classiche crisi di panico che hanno molto le società, soprattutto i presidenti di un'ottima vitae, però lei ha chiesto una squadra più credente, ha visto quella, immagino non soltanto questa tecnica tattica, penso proprio nell'altra l'esercizio, l'ha vista questa prudenza? Diciamo che noi abbiamo fatto delle prestazioni, delle bellissime prestazioni contro per esempio il Foggia, ma anche ad Agrigento e chiaramente abbiamo fatto sempre noi la partita, è chiaro che forse abbiamo pagato qualche errore di inesperienza in quella fase e quindi quando dicevo più mi riferivo soprattutto a questo, al fatto che comunque pur avendo fatto la partita non abbiamo raccolto i risultati che dovevamo raccogliere e che meritavamo di raccogliere, però io credo che sia proprio nel DNA di questa squadra giocare viso aperto e oggi l'abbiamo ancora una volta dimostrato perché abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che come avete detto prima voi aveva fino a questo momento la migliore difesa del campionato, quindi credo che questa sia una nostra caratteristica, un tratto distintivo di questa squadra e che va preservato, è chiaro che magari dobbiamo considerare che questa squadra è una squadra tutta nuova e quindi è normale che nelle prime partite qualcosa poteva succedere di negativo per chi ha fatto?